Sempre piccoli porcellini, allora c'è una pensione, c'è una pensione, andiamo bene, c'è paura a dire, ragazzi, c'è una persona che va giù l'impice, giusto? L'ho vista? C'è una persona che va l'impice perché deve andare a prendere la pensione, allora arriva dentro l'impice, però non c'è documenti, non c'è niente, allora va lì dall'usciere e dice guarda io non c'ho niente, come facciamo? Non mi fai a torno a casa perché tanto come cazzo può, torno a casa, non mi fai a torno a casa. Guarda, non si preoccupi, non c'è problemi, guarda, basta che te levi la camicia e ti dammo la pensione. Questo po', non c'è niente, ma non c'è niente, ma non c'è niente, ma non c'è niente, giusto, c'è niente, allora se ne va la camicia, se ne va la camicia, a posto, e gli dà la pensione, questo po', torno a casa, e fa il conto alla moglie, e gli fa guarda, oggi dicono tutti che parlano male degli impiegati dell'Inps, ma secondo me non è vero il conto alla moglie, e te pensa, ha detto, sono andato sull'Inps e mi ha detto, non c'ho documenti, ma ha fatto, guarda, non c'è problema, basta che te levi la camicia e mi ha dato la pensione. La moglie gli ha guardato, tant'è che ci ha detto, se puoi tirare giù pure i pantaloni, almeno vieni pure la compagna, posso, la figuretta l'ho fatta, ma c'è bene. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente.